Fire! I giovani inseriteli in azienda, vi portano dentro una caretata di robe, cercatele, fate il ponte magico. Qual è il ponte magico? Il ponte magico è l'esperienza, gli errori, le cose passate e i giovani di adesso che hanno la tecnologia, la fame, il fuoco dentro, come ce l'avevo io a 20 anni, Michela, explosiva!